Parliamo di questi dati del Milone 2020 perché in ogni caso il controllo del territorio è stato fondamentale ed è un momento anche particolare perché sta emergendo tanta violenza in Italia, ma anche da noi? Il progetto Milone 2020 un po' riprende altre due progettualità fatte nel 2018 e 2019 che avevano come obiettivo, come focus, la provincia, non solo il capoluogo. Soprattutto quei comuni riveraschi, in particolar modo presilani, dove c'è una maggiore affluenza di turismo. Tenuto conto che quest'anno anche a causa del Covid non si è andato molto fuori, quindi c'è stata più presenza sui nostri lidi o nelle nostre montagne. Il progetto è in fase conclusiva come redazione dati, quindi io in questo momento non posso fornire dei dati precisi come numeri, ma possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti perché la presenza della Polizia di Stato ha portato dei concetti di legalità in alcuni territori in cui la nostra presenza è assente, ci sono magari le stazioni carabiniere o comandi della Guardia di Finanza, ma la Polizia di Stato non viene mai vista. E siccome ci sono delle professionalità su questo molto particolari, ad esempio sul settore della Polizia Amministrativa, dove abbiamo inciso in modo importante su varie attività commerciali, abusive o illecite, ovviamente, come Grano Salis, tenuto conto di quello che è accaduto nei mesi precedenti con le chiusure, abbiamo cercato di non essere intransigenti al massimo. Però laddove andavano contestate alcune sanzioni importanti, dove magari non c'era nessun tipo di autorizzazione o, peggio ancora, attività pericolose, siamo intervenuti in modo deciso. Che tipo di attività pericolose? A cosa si riferisce? Le attività pericolose possono essere quelle relative a dei videogiochi non autorizzati, nei circoli privati, ad esempio. Pericolose perché sono sicuramente lo strumento con cui si possono creare dei circoli viziosi, negativi, circolo di usura, ad esempio. Si può creare un circolo di prestiti, anche seppur minimi, di denaro. O, ancora più, ci possono essere situazioni di bullismo all'interno di queste attività, perché molto spesso sono i giovani che fanno uso di questi mezzi tecnici.